A Celestino Crisapulli, vivai e piante, esperienze e professionalità, e sono il nostro punto cardine. Da noi potrai trovare agrumi, olive, fruttiferi, ornamentali, piante stagionari, vasi, vasi di terracotta, attrezzatura per giardinaggio, prodotti per il nutrimento e la cura delle piante. E non solo, prodotti cifo, terriccio cifo biologico, e tanto altro ancora, e in offerta, i gerani. Celestino Crisapulli, vivai e piante, via Nazionale Sud, 538 89025 Rosario, Reggio, Calabria.